L'Agnanto fa ancora paura favorire l'adozione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori e della popolazione in linea con quanto indicato nel Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025. Con questo obiettivo il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e comunicazione del Piano Regionale di Prevenzione, ha promosso insieme a servizio, prevenzione e sicurezza nelle ambienti di lavoro della Asla di Pescara e in collaborazione con i servizi delle altre asla abruzzesi il convegno dal titolo Rischio amianto in edilizia, tutela dei lavoratori e della popolazione durante le operazioni di bonifica. La presenza di amianto in edificio e impianti realizzati tra gli anni 50 e il 1992 infatti è una problematica ancora molto diffusa e l'esposizione professionale nelle attività di bonifica e di manutenzione può rappresentare un fattore di rischio a lungo termine con possibili ricadute future sullo stato di salute dei soggetti esposti. Le sottilissime polveri di amianto, se rilasciate nell'aria, possono infatti essere inalate e provocare danni a carico dell'apparato respiratorio. Gli effetti sulla salute possono manifestarsi anche a distanza di molti anni dall'esposizione, spesso con conseguenze irreparabili. La dottoressa Cinzia Anna Cianfaglione, dirigente medico. È un evento importantissimo perché l'amianto, se da una parte evoca delle preoccupazioni sulla salute, dall'altra è ancora un problema accogente perché è ancora molto rappresentato sul territorio e adesso sono legate molte attività lavorative, non solo specifiche di rimozione, quindi di bonifica dell'amianto, ma è un settore che comprende un po' tutti i rischi dell'edilizia che, come sappiamo, è un comparto lavorativo in cui i rischi sono molteplici e complessi. Quindi la giornata di oggi è importante perché avvicina le istituzioni a coloro che ogni giorno sul campo operano nel settore dell'edilizia e dell'amianto.